su questo tema continuiamo venerdì questo proprio su un caso concreto partendo dall'analisi di un caso concreto che era molto caro a Marco Pannella cioè il caso Crespi che adesso è in Cassazione e lo facciamo sia col giornalista che adesso ha scritto un articolo, un libro sull'argomento del caso della vicenda del caso Crespi che con due super giuristi con cui ho avuto l'onore di collaborare o lavorare uno su eccellenza mio zio Gaetano Berni nominato di Cassazione per altissimi meriti professionali e l'altro su eccellenza Michele Saponara anche lui membro del CSM membro invece del CSM che entrambi proprio per analizzare la questione soprattutto della prova nel processo penale come si forma il processo della prova soprattutto alla luce di due aspetti il primo aspetto è quello che spesse volte vengono introdotte le prove scientifiche nel processo penale che sono probabilistiche pensiamo al caso dell'Ilva oppure pensiamo anche al caso dell'Amianto l'Amianto fa male l'Amianto fa bene o fa prima faceva bene adesso fa male e poi l'altro aspetto che viene analizzato venerdì è soprattutto la gestione dei pentiti come si fa a sostenere un processo a fare sostenere un processo a un poveraccio che non ha gli strumenti gli mezzi che ha la procura tecnici eccetera eccetera soprattutto su delle prove indiziarie per come vengono gestiti i pentiti quindi il problema della gestione dei pentiti è un problema attuale nel tuo sistema penale quindi spesse volte si ha quindi la ricostruzione perché io introduco se io introduco in un'altra scienza che è esatta quella penalistica una scienza probabilistica medico scientifico eccetera eccetera che non posso confutare perché non è un processo civile a meno che non possa avere cioè non è che faccio una cittiuso a meno che non abbia ingenti mezzi va a finire che non riesco più a confutarla quella prova e quindi ecco questo è un tema che affrontiamo venerdì quello che però a me faceva piacere ricordare oggi perché noi il primo dibattito che abbiamo fatto con gli amici della Cazzavillan era sul ricordo di Carlo Cattaneo perché Carlo Cattaneo? Carlo Cattaneo perché è stato un grande italiano un grande milanese espressione di quella milanesità per cui la ringrazio signor Sindaco di essere qui anche per rappresentare e ricordare quella milanesità e quello spirito che ha portato poi anche l'Unità d'Italia ma ha fatto tanto illuminista tanto per tutto il mondo che pensiero illuminista dai fratelli Verri a tutta una serie di percorsi a Cesare Beccaria anche allo stesso Alessandro Manzoni cioè una Milano che fermentava si agitava e continuamente teorizzava implacabilmente il futuro Carlo Cattaneo in questo precursore anche di quella che poi era un'idea di Europa federalista era un grande amante di cui di una battaglia di Marco Parella successiva era un grande amante di quello che era le confederazioni anche per l'Italia pensava una confederazione di un po' sul modello svizzera e già ragionava un sogno europeo fatto di confederazioni di regioni omogene Milano poi particolarmente è la più grande area del sud Europa guardando le forze satellitari dal parco del Ticino fino a Venezia da Lugano fino a Piacenza e poi fino a Milano Marittima è un'unica area territoriale economica con un grandissimo tessuto produttivo che regge anche le solute del paese tanto è vero che il coronavirus fermandosi Milano si è fermato tutto anche se poi magari a Pantelleria hanno avuto meno caldo di coronavirus però richiedono giustamente fondi di assistenza perché evidentemente non è arrivato più il soldo allora la riflessione era visto che comunque il debito pubblico di Italia è molto alto visto che le spese per le regioni che ci sono state anche a luce di questi fatti del coronavirus per cui non un medico è arrivato da altre regioni se non nel mese di aprile sono arrivati prima i cubani penso che il materiale di protezione civile era insufficiente che le spese per la sanità sono tagliate dal governo centrale eppure la Lombardia è una regione virtuosa e Milano anche in questo senso c'era qualcuno che vale io non sono fra quelli e non ne ho mai conosciuti magari è piccola illusione che fanno però quelli che ho conosciuto la riflessione era visto che c'è un problema di rapporti anche con l'Europa visto che c'è un continente che è da ridefinire e ripensare cioè un continente che deve superare il modello nazione e reinventarsi in quello che Pannella l'ultima grande battaglia era sui Stati Uniti d'Europa cioè l'Europa delle regioni l'Europa delle autonomie locali l'Europa di chi che è più vicina al modello anche che può essere più chiaro magari ad Andrea o altri amici che magari hanno una situazione più una formazione più più cattolica a quello che viene chiamato la sussidiarietà di cui anche la sua amministrazione signor sindaco è stato un esempio fulgido concreto e chiarese orgogliosi anche chi magari giovanissimo come me faceva il consigliere di zona e sentiva parte di un progetto per il futuro della città per cui lei oggi per esempio possiamo godere dello skyline o del city life per esempio o del progetto della Darsia o se vuole anche del parco Sempione che non c'era più e di tutto il foro può una parte ma perché diciamo non c'era più ma neanche il prato c'era perché lei ha avuto la lungimiranza non solo di gestire l'attuale ma di planificare il futuro e in questo senso allora la domanda ma anche al professor Stigliver e a Lorenzo Cinquepalmi che saluto che è sedettore regionale del PSI sperando che Nicola Fortuna riesca a connettersi la domanda è la proposta che è questa l'ultima sfida che ci ha lasciato è questa cioè costruire un mondo nuovo in cui veramente possiamo essere liberi possiamo sperare di avere una proprietà possiamo sperare di poter ricercare la felicità e soprattutto di evolvere e di crescere questo era un po' il sogno che lui ci lanciava perché forse questi stati nazionali non sono più all'altezza di governare ma neanche questa grande Milano ecco grazie a tutti grazie a tutti Grazie.